Il questore della Camera dei Deputati ha interrogato il Ministro Toninelli richiedendo una risposta entro sette giorni se non sia il caso di rivedere, riconfigurare e sospendere il finanziamento per il tram di Padova. La notizia arriva così come un macigno attraverso il Movimento 5 Stelle Padovano. È stato chiesto al Ministero delle Infrastrutture di comunicare entro sette giorni se sia il caso di confermare il finanziamento da 57 milioni o piuttosto di congelarlo magari per rivedere il progetto. Qui non si tratta di affossare il tram per una questione politica ma di valutare costi e benefici dell'opera insomma e se sia possibile modificarla. Io non voglio che il progetto venga distrutto, che venga abbandonato. Io voglio portare più soldi alla mia città. Messina proprio perché ha proposto un progetto innovativo, integrato e smart ha preso dal governo 200 milioni. Noi perché proponiamo un progetto obsoleto del 92 solo 57 milioni. C'è chi dice che l'amministrazione non abbia giocato bene le sue carte, che il percorso scelto non sia il migliore. È anche vero che il progetto è stato finanziato così com'era già pronto e la Giunta Giordani si è sempre difesa, affermando che non si poteva cambiare nulla, altrimenti si sarebbero persi anche quei 57 milioni. Questo tipo di progetto ha dei costi enormi, che va comunque a passare in un itinerario in cui l'ospedale verrà spostato da un'altra parte della città e passerà davanti a un metro di distanza di abitazioni private. Quindi prima di desertificare zone, di stravolgere l'assetto della città, era bene secondo me consultare e sedersi attorno ad un tavolo. Tra sette giorni dunque si dovrebbe sapere qual è il futuro di un tram che vede nuvole e sereno alternarsi continuamente senza chiarezza.